Dopo un anno di trattative è arrivata la fumata bianca nella vertenza Avicop di Controguerra in provincia di Teramo. Infatti i sindacati e Amadori hanno sottoscritto l'accordo che riguarda 200 dipendenti con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita lavorativa. In particolare l'accordo definisce il sistema delle pause e dei recuperi, il tempo di vestizione e l'impegno da parte dell'azienda di conservare la forza lavoro e di ricollocare, in caso di necessità, esclusivamente presso lo stabilimento di Mosciano Sant'Angelo. Di risultato positivo parlano i sindacati, che hanno visto accolte gran parte delle loro richieste. Il gruppo Amadori opera in Abruzzo fin dai primi anni Ottanta. Oltre agli stabilimenti di Controguerra e Mosciano, l'azienda possiede un incubatoio a Castellalto nel Teramano e un mangimificio a Fossacesia, oltre a tutta una serie di allevamenti di proprietà o convenzionati. Tutte attività che si reggono sul lavoro di oltre 2.200 lavoratori abruzzesi. Mentre in tutta Italia l'azienda può contare su oltre 7.800 dipendenti, circa un pollo su tre consumato nella nostra penisola e prodotto da Amadori.